Buongiorno, sono Mario Pitatore, amministratore delegato della Tebis Italia. Qui siamo in Mexpe, stand della Tebis, dove presentiamo un'applicazione particolare di lavorazione abbinato Tebis con un robot KUKA. La particolarità di questa applicazione è l'uscita del formato CNC KUKA gestito direttamente da Tebis. L'altra particolarità è la simulazione completa delle collisioni volumetriche del robot gestito dal nostro software.